Ora, io non so se come me, che sono il massimo esperto di politica sul web, avete eseguito lo scontro Verdini vs Travaglio, ma io l'ho fatto e vi voglio dire un attimo la mia su questo scontro che secondo me potete recuperare in qualche modo, sia andando sul sito della Rai sia sul web, sicuramente qualcuno lo caricherà. Vi dico la mia, è uscito fuori un quadro disastroso di Travaglio e di Ballarò, perché avevano preparato un trappolone per il buon Verdini che invece ne esce super rafforzato. Ne esce rafforzato perché ha saputo spiegare il suo punto di vista, perché gli attacchi dei due conduttori, anzi il conduttore e del giornalista Travaglio, ormai giornalista non lo so, sono stati rivolti più verso il governo Renzi che verso Verdini, quindi forse hanno sbagliato l'obiettivo. Il continuo pungolare e sogghignare ad ogni inquadratura di Travaglio non hanno colpito assolutamente il buon Dennis, il senatore della neonata forza che sostiene la maggioranza, che sostiene il governo, Ala. E perché? Vi dico subito perché. Perché secondo me oltre a voler attaccare il governo a poco Verdini, sia il conduttore ovviamente che, ripeto, che Travaglio, il trappolozzo non ha funzionato, non ha funzionato soprattutto perché non hanno saputo leggere, secondo me, le intenzioni di Verdini. Durante tutto il confronto si interrogavano, hanno provato a dire la loro sul perché Verdini sostenesse questo governo, eccetera, eccetera. Ora alle buone intenzioni di Verdini non ci crede nessuno, il fatto che lui sostenga le riforme perché vuole fare il padre nobile della Costituzione, perché crede in queste cose qui, non ci crede neanche cinque secondi, Verdini è uno squalo e lui, dietro Berlusconi, per vent'anni all'ombra, c'è sempre lui, chi ha seguito attentamente la politica lo sa che è uno degli ideologi, ideologi, come si dice, insieme a Dell'Utri di Forza Italia, uno che batteva i pugni per Sandro Bondi, che non sapeva imporsi durante i concili ristretti del partito, uno che si è preso il potere poco a poco, uno che è stato appunto dietro le quinte, come tutte le persone importanti, non lo conosceva nessuno. Ora ha deciso di venire alla luce, chissà, anche può essere, chissà, se non per fare un lavoro sporco per Berlusconi, ieri in trasmissione l'hanno detto, ovviamente non esistono prove per sostenerlo, chissà che sia quella parte di, che non rappresenti quella parte di interessi di Berlusconi, a cui interessa che il governo stia in piedi, che stia bene, che non vacilli, perché questo, diciamo, un governo poco sicuro danneggerebbe anche le aziende di Berlusconi, avete visto che durante quei momenti di instabilità le azioni mediaset andavano a picco, un po' come tutte quante le aziende italiane, quindi magari ci può essere anche un altro genere, Verdini è uno squalo intelligentissimo, quindi ci posso credere. Il punto è che però queste sono le azioni. Invece, se andiamo ad analizzare un attimo i movimenti di Verdini, potremmo vedere qualcosa di più concreto di quello che abbiamo appena detto. Perché Verdini appoggia il governo Renzi? Per un certo periodo non l'ho capito, davvero, per un certo periodo non l'ho capito. Lo sto capendo ora, ora che Verdini sta sostenendo e sta aiutando per la campagna elettorale nelle amministrative, nelle varie città. Questo mi fa pensare che Verdini sia consapevole di non poter entrare una maggioranza o comunque in un partitone, in un listone, in un partito della nazione. Non penso sia questo l'obiettivo su cui Travaglio ha pungolato tutta la serata. Io penso che Verdini punti invece ad aiutare a livello governativo per prendere potere territoriale. Perché è più facile, perché è più all'ombra, perché il PD ha meno imbarazzi da coprire quando si parla di alleanze territoriali, perché ovviamente i giornalisti si interessano più delle vicende nazionali che di quelle territoriali. Si ogni tanto riportano, Verdini sostiene di qua, Verdini di là, ma sono gestibili come imbarazzi. E nei territori, quando tu metti delle persone di potere nei territori, puoi piazzare tante altre persone e fare clientelismo. Io penso che sia questo il punto. Vuol dire, Terrenzi, se fosse così, lo sta permettendo? Allora, io non penso che Renzi sia uno sciocco e sappio benissimo quali sono i piani di Verdini. Non è il momento per mettergli bastoni tra le ruote a questi piani, ma sta sfruttando le ambizioni e gli obiettivi di Verdini. Questo perché lui sta facendo un miracolo politico. Si ricorderà negli almanacchi di storia di politica il governo che Renzi riuscì a pilotare fino al traguardo, speriamo, della riforma costituzionale. Sapete che in ottobre ci sarà il referendum sulla riforma costituzionale, io spero tantissimo che questo referendum abbia successo perché cambiando le regole forse riusciremo a cambiare il paese. Questa è una cosa che ha detto Verdini in trasmissione e io concordo. Quando cambia le regole cambia il gioco, quando cambia il gioco cambiano i giocatori e l'arbitro anche di conseguenza. Quindi speriamo che ci sia una rivoluzione culturale a seguito di questa riforma costituzionale importantissima e vedremo. Sono proprio curioso. Ma attenzione, Verdini non sta cercando di entrare in un partito della nazione, lo voglio dire a travaglio, sta semplicemente cercando di acquisire il potere territoriale. Per il momento a noi, soldati del presidente Renzi, ci piace così, ci va bene perché sfruttiamo quell'ambizione per rimanere in sella e cambiare davvero l'Italia, quando poi si andrà alla resa dei conti finale, cioè alle elezioni col nuovo sistema elettorale, poi si risolveranno tutte quante le questioni rimaste in sospeso. Un saluto a travaglio che quando deve fare qualche analisi politica può rivolgersi a me, sarò felice di aiutarlo perché ieri sera proprio una zaccata pure.